È il quarto anno. Da quattro anni. Quattro anni, questo è il quinto. Tre anni. Per me è tipo dire sempre bravo a chi fa dei bei punti. Non sbattere la racchetta in terra. Secondo me la regola più importante del tennis è sempre di dare la mano, e stare sempre sportivi. Durante la partita è importante tenere la calma, se no se uno va in tilt perde la partita. Questo qui è un'antivibrazioni, che senza questo quando ti tiri per esempio forte, le corde ti vibrano e ti fanno sbagliare il corpo. Però con questo non ti vibrerà, non vibra mai. E ci sono di varie forme, come per esempio questo, il toro del numero uno del mondo, che si chiama Nadal. Di diventare molto bravo. Di incontrare la Bosniachi. Di diventare la numero uno del mondo. Però va bene anche la numero cinque.